Generale Luigi Cadorna, un nome che evoca controversie e dibattiti, un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia militare italiana. Nato a Pallanza il 4 settembre 1850, Luigi Cadorna è stato un generale e politico italiano. Figlio del generale Raffaele Cadorna, ha segnato profondamente la prima guerra mondiale come capo di stato maggiore generale del reggio esercito. Il Comando Supremo Militare Italiano. Cadorna assunse la guida del Comando Supremo Militare Italiano nel 1914, dopo l'improvvisa morte del generale Alberto Poglio. Durante la Grande Guerra, fu responsabile delle operazioni militari italiane dal momento in cui l'Italia entrò nel conflitto, il 24 maggio 1915, fino alla disfatta di Caporetto. La strada Cadorna e la costruzione di un grande esercito.Cadorna formò e armò un grande esercito, facendo costruire numerosi tracciati per rifornirlo di uomini e mezzi. Tra questi, la strada Cadorna divenne un simbolo della sua leadership. Tuttavia, non comprese appieno tutti i punti di forza e debolezza dell'esercito italiano. Il suo comando si basava su principi di rigidità e dura disciplina, e il suo elevato senso del dovere lo portò a sacrificare tutto per ottenere la vittoria. La tattica di Cadorna Cadorna fu un convinto sostenitore dell'assalto frontale a oltranza contro le linee difensive austro-ungariche, sull'Isonzo e sul Carso. Questa strategia comportò perdite enormi di uomini per l'esercito italiano. Nonostante alcune intuizioni tattico-strategiche, Cadorna continuò a sferrare durissime e sanguinose spallate contro il nemico. Nel 1916 ottenne successi più consistenti, ma la sua fermezza e il ricorso alla decimazione furono oggetto di critiche e disapprovazione. Caporetto e la disfatta l'ottobre 1917 vide la disfatta di Caporetto, dove l'esercito italiano fu travolto. Cadorna tentò di scaricare le colpe sui sottoposti e sui fanti della Seconda Armata, ma alla fine fu travolto dalla disfatta. La sua celebre frase e quale disastro più grande del mio, riflette l'ampiezza della sconfitta. Il giudizio su Cadorna la figura di Cadorna è stata oggetto di giudizi contrastanti. Alcuni lo considerano un macellaio, mentre altri lo vedono come un principe della guerra. La sua eredità è complessa e controversa, ma indubbiamente ha lasciato un'impronta indelebile nella storia militare italiana. In conclusione, il generale Luigi Cadorna è un personaggio complesso, le cui azioni e decisioni hanno avuto un impatto duraturo sulla storia d'Italia e sulla percezione della grande guerra. La sua eredità continua a far discutere, e il suo nome rimarrà associato a una delle pagine più drammatiche della storia del nostro paese di risposte per te. In corso, le principali critiche rivolte al generale Luigi Cadorna riguardano principalmente la sua condotta durante la Prima Guerra Mondiale. Ecco alcuni dei punti critici più discussi. Strategia inflexibile. Cadorna è stato criticato per la sua apparente mancanza di flessibilità strategica. La sua insistenza sugli assalti frontali ha portato a pesanti perdite umane, sollevando preoccupazioni sulla sua capacità di comando. Disciplina estrema, la sua presunta ferocia disciplinare è stata oggetto di controversia. Sebbene la magistratura militare italiana fosse meno severa rispetto ad altri paesi, le decimazioni e le condanne a morte hanno lasciato un'impressione negativa sulla sua figura Caporetto. La disfatta di Caporetto è stata uno dei momenti più bassi della carriera di Cadorna. La sua incapacità di prevenire o gestire efficacemente la situazione ha portato a una delle peggiori sconfitte, dell'esercito italiano. Scarico delle colpe. Dopo la disfatta di Caporetto, Cadorna tentò di attribuire la colpa ai sottoposti e ai soldati della Secondo Armata, un atteggiamento che non è stato ben visto né dalla storia né dall'opinione pubblica. Concezioni tattiche. Le sue concezioni tattiche, sebbene comuni tra i generali dell'epoca, sono state criticate per non aver innovato la conduzione della guerra, risultando in un alto numero di vittime senza significativi progressi strategici. Queste critiche riflettono la complessità della figura di Cadorna e il dibattito ancora vivo sul suo ruolo e le sue decisioni durante uno dei conflitti più devastanti della storia.